Insomma, ho cancellato già due video, uno vecchio non ve lo fa vedere, non mi piaceva già più. Li volevo brevi, non ci riesco perché poi collego tanti argomenti insieme. Allora cosa faccio? Faccio un'anteprima, nel senso che parleremo di quello che si vede qua sotto. Visto? Felicetta, Kid Moir, un'altra lana a fianco che non sarà proprio nell'argomento ma... E' la lana che ho utilizzato per il golfetone di Camilla che pesa 881 grammi. Una follia, da piccolo eh? Però è affascinante, mi piace, sono contenta. Le maniche le ho disfatte 3-4 volte perché pensavo ad una cosa, poi quando le mettevo vicino non mi piaceva come diventava in lunghezza, non mi piaceva l'attaccatura, ho cambiato tre spalle. Per fortuna sono pezzi da cucire, quindi non ho dovuto disfare tutto un po' di golf perché ho modificato un po' di cose. Sono contenta di quello che è venuto fuori, poi una sorpresa che mi si vedono in maniera quasi speculare, due cose che potrebbero sembrare dei difetti ma mi sta bene, quello che è uscito fuori c'è da ragionarci su. E vabbè, non è l'argomento golf comunque, il vocaletto dopo, sono dei saluti, parlerò di filati, un accenno alla tessitura, un accenno, e parlerò di ultimi regaletti perché abbiamo l'epifania, parlerò di come approccio i filati quando li devo utilizzare, alcune considerazioni che faccio, sempre le faccio, ormai sono anche istintive, cioè le mie mani vanno da sole perché sono pratiche che faccio da tanto tempo. Quindi non è solo una questione cromatica, l'abbinamento dei filati ma è anche di texture. Scusate, arriva la tosse. Aiuto, sto bene, non sono raffreddata, è che l'epigloctide a volte si asciuga parlando e si appiccica lateralmente. Mi fa specie quel birulo che c'è laggiù in gola, ma va via come siamo fatti strani. Quindi anteprima sarà un vocaletto lunghetto, una mezz'ora, quell'altro quindi carico questo perché mi va di stare qua tutti i giorni, perché c'ho sempre la testa, a me aiuta a pensare, questi vocaletti a me danno tantissimo perché quando mi concentro su il discorso, quando sento che devo parlare di qualcosa, poi avvengono miracoli in me e si elaborano tra loro le idee e arrivano le ispirazioni che possono essere quelle di un acquisto, che possono essere quelle di un campione, che possono essere quelle di alcune cose disegnate, perché a volte ne disegno, non sembra, perché lavoro spesso di getto, modifico le dimensioni faccia di su, questo golfettone è stato un tormento, poi per mia figlia, peggio che peggio, è la cliente più digna, mamma mia. Sono felice però, sono felice perché poi ho usato un filato che pareva simile ad altri, ecco simile, spesso i filati sono simili, ma danno e rese completamente nuove. Non ho usato è differente, ma carico, è importante, per me è importante parlare perché poi perdo l'esercizio, invece non lo voglio perdere. E riascoltarsi, ecco, è importante, perché quando faccio le mie cose così di chiacchiera in giro, prendo degli appunti, se c'è un programma, lo sviluppo, poi sono sempre sorprese. E c'è un programma, ecco, nelle mie chiacchiere qua non c'è un programma, però mi aiuta a crearne e mi mantiene lucida, mi mantiene attiva, mi mantiene vivace la creatività e la chiacchiera, che è fondamentale. Io amo chiacchierare i filati, amo trascinare le persone verso questo mondo meraviglioso. Quando il mio allievo maschio, l'ultimo, il più grande, ormai è grande, era già ragazzotto, è grande, è grande, e mi ha chiamato perché voleva fare una sorpresa alla fidanzata, voleva realizzare una sciarpa, ma era tanto che non lavorava un cinetto. Allora abbiamo fatto insieme un progetto, mi ha dato carta bianca sulla scelta dei filati, glieli sono andate a comprare, ho mandato le fotografie, ho parlato di colori e li ho presi a Viterbo. Quando posso, io cerco di fare acquisti sul posto, manteniamoci i punti vendita, sure, sure. E mi sono già persa? Va bene, comunque, davvero, sono fulminata, perché la mia testa poi va, va, perché sono già connessa su tanti argomenti. Quindi perché ho parlato di questo mio allievo? Ok, non so, cosa volevo dire? Chissà, magari poi lo scriverò sotto, nell'info box. Spesso proseguo i racconti nell'info box. Non metto link perché non sono capace ancora, però, perché quando è stato fatto non l'ho fatto io, però racconto, proseguo, faccio delle correzioni, non metto i sottotitoli, i sopratitoli, i sopraimmagine, non mi riesce. Quindi andate sotto che spesso magari mi corrego o aggiungo cose, chi c'ha voglia. Avrete notato che non vi dico, iscrivetevi al canale, non lo faccio, non lo voglio fare. Chi ha piacere, lo fa. Chi ha piacere di condividere, lo fa. Tanto a me serve comunque come esercizio. Ciao, ciao, ciao. A più tardi, 5 minuti, troppo, troppo. Ciao.